Salve da Agro Palati! Quello che vedete è un modo per preparare il capocollo in modo molto artigianale. Non riuscivo a trovare il tubo girando e girando neanche l'anno scorso non so dove l'ho messo sinceramente. Siccome era già troppo salato, stava andando troppo avanti, mi sono inventato questo metodo che già esisteva, comunque si trova anche su YouTube in qualche video che lo ritengo anche passabile. Con le canne poi va legato in un certo modo e comunque si fa ricordare proprio il passato perché il capocollo aveva proprio queste bombature, vedete, con le rettine queste cose non si notano più. Ci vuole il suo tempicello però vi posso assicurare che anche la sua logica. Adesso verrà appeso diciamo 60 giorni minimi. Io addirittura si passa anche fino a sei mesi quindi diciamo io 90 giorni sono sicuri. Ecco, 90 giorni appeso perché non è tanto grande, saranno più o meno 4 kg ecco. Quindi per 90 giorni, diciamo tra i 70 e i 90 giorni, io di solito stagione. Poi alcune persone preferiscono fino a sei mesi ma dipende anche dalla grandezza del capocollo. Ok? Beh, sembra un barilotto di acqua fresca, ecco.